stanchi del caldo opprimente della città e delle nostre pianure stanchi di andare al mare o in piscina potete optare per qualche ora in relax in mezzo alla natura sul nostro meraviglioso appennino qui siamo appoggi alla lastra comune di bagno di romagna in provincia di forlì e cesena passare qui qualche ora di relax con il verde intenso degli alberi e soprattutto un'acqua trasparente fredda e rigenerante farà al vostro caso